Canto 29 Canto 29 Canto 29 Credo di aver visto uno spirito della mia famiglia piangere i suoi peccati, che laggiù costano molto cari, allora disse il mio maestro. E' stata vendicata da nessuno dei suoi parenti, fra i quali io. Per questo se n'è andato senza parlarmi. Così penso che sia successo. Però in fondo devo dire che proprio questo atteggiamento mi ha reso più vicino a lui, perché mi ha considerato un vero parente. Parlando così giungemo a quel punto da cui per la prima volta si vedeva la decima bolgia, e l'avremmo potuta scrutare fino in fondo, se non ci fosse stato tanto buio. Canto 30 Insieme in una fossa comune si avrebbe un dolore simile a quello che era in quella bolgia. Tale era la situazione, tanto puzzo ne usciva quale suole venire dalla carne che marcisce. Noi discendemmo sempre a sinistra del lungo ponte sull'ultimo argine, prima del pozzo. Allora la mia vista fu più chiara, giù verso il fondo, là dove l'infallibile giustizia, ministra di Dio, punisce i falsari, i falsificatori di metalli, alchimisti, falsificatori di persone, di parole. Peccatori che tale giustizia divina registra come tali quando sulla terra si macchiano di quei peccati. Non credo che lo spettacolo della peste di Egina fosse stato più tristi a vedersi. Una pestilenza tale che l'aria fu così piena di corruzione e di morbo, che anche gli animali, fino al piccolo verme, caddero tutti morti. Poi morirono anche tutti gli uomini, tranne il re Eaco che ottenne da Giove di ripopolare quella terra con tanti uomini, quante erano le formiche che egli vedeva ai piedi della quercia sotto cui sedeva. Questa era la situazione in quell'oscura valle, in cui si vedevano spiriti malati languire a mucchi, strani e orribili. Giacevano, chi sopra la pancia, chi sopra le spalle, l'uno dell'altro. Ed alcuni si trascinavano carponi lungo quella triste valle. Pian piano camminavano senza parlare, guardando ed udendo gli altri ammalati, che non potevano sollevare i loro corpi. Poi io vidi due dannati seduti ed appoggiati a se stessi come si appoggiano due teglie a scaldare, entrambi ricoperti di croste formate dalla scabbia. E non vidi mai muovere la striglia per pulire i cavalli da un ragazzo di stalla, sotto il controllo e gli occhi vigili del suo padrone, né da uno stalliere che malvolentieri deve governare il cavallo alla sera, e quindi lo striglia in fretta. Così come quelli muovevano le loro unghie per grattare la loro scabbia per la gran rabbia del prurito, che purtroppo per loro non si calmava mai. Con le unghie si strappavano le croste come il coltello stacca le scaglie della scardova, che è una qualità molto squamosa, o con altro pesce, che abbia scaglie molto larghe. O tu che ti laceri con le dita, disse il mio duca ad uno di loro, e che te ne servi talvolta come fossero tenaglie. Dicci se qualcuno qui nel mezzo è italiano, e se codeste unghie ti basteranno per l'eternità a fare codesto lavoro. Gli italiani siamo proprio noi, che tu vedi ambedue qui ridotti in questo modo, rispose uno piangendo. Ma tu chi sei che domandi di noi? Ed il duca disse, io sono uno deputato a venire qua giù, insieme a questo uomo vivo, di bolgia in bolgia, e con il compito di mostrare a lui l'inferno. Allora le due anime che si appoggiavano l'un l'altra si staccarono tremando per il mancato appoggio, e si rivolsero a me, insieme ad altre che udirono in quell'istante quelle parole di Virgilio. Il buon maestro si avvicinò a me con affetto, dicendo Chiedi a loro ciò che vuoi. Ed io, dopo aver avuto il suo consenso, dissi Affinché la vostra memoria, il vostro ricordo, possa non scomparire sulla terra dalle menti degli uomini, ma possa essere invece conservato a lungo. Ditemi chi siete, e di quale città o regione. Non vi spaventi la vostra triste e sconcia condizione a manifestarvi, a farvi riconoscere da me. Allora uno di quei due rispose Io fui griffolino d'Arezzo. Alberto da Siena mi denunciò e mi fece bruciare come eretico, ma non mi ha portato qua giù ciò per cui io fui erroneamente condannato. E' pur vero che io, parlando per scherzo, un giorno gli dissi Io saprei volare. Allora lui, che era un povero sciocco, un vanitoso, un crudele ed un superbo, volle che gli dicessi come si faceva volare. E solo perché non lo feci volare come Dedalo, mi denunciò. Come eretico, all'inquisitore, vescovo di Siena, che lo amava come un figlio. Quindi mi fece salire sul rogo. Ma io sono finito qui, nell'ultima bolgia delle dieci. Perché Minosse, che non può sbagliare, al contrario di coloro che sbagliano, mi fecero condannare per eresia, mi condannò invece per il mio vero peccato, che non era stato appunto quello dell'eresia. Pensì quello di aver praticato l'arte dell'alchimia. Allora io dissi al poeta Virgilio Ma ci fu mai gente tanto vana e sciocca come quella senese? Beh, certo non così tanto quanto la francese. Allora l'altro lebroso che mi sentì e fu stimolato sia dall'ironia di Grifolino che dalla mia in merito ai senesi rispose le mie parole in tono ironico. Davvero? Eccetto Strecca dei Salimbeni, però, che seppe essere davvero parco. In effetti sperperò un sacco di denaro. E Nicolò, suo fratello. Quel Nicolò importò dall'Oriente a Siena il costoso Garofano, che era una droga da mettere nelle pernici e nei fagiani arrosto. E per primo fece, appunto, conoscere quella dispendiosissima abitudine a Siena. Luogo in cui i ricchi costumi e le dispendiosi abitudini attecchiscono subito. E magari accetto anche di quella famosa brigata che fu detta spendereccia e che fu formata da dodici giovani senesi che si dettero a vita costosa e lussuosa. Tanto da divorare enormi patrimoni. Fra di loro, per esempio, Caccia d'Asciano, della famiglia degli Scialenghi, che sperperò i vigneti di boschi che possedeva, oppure Bartolomeo dei Folcacchieri, detto l'abbagliato, che dette davvero prova di quanto capisse. Ma per sapere che ti asseconda e ti condivide nel biasimare i senesi, guardami bene in modo da poter riconoscere il mio volto. Così vedrai che io sono l'anima di Capocchio, e fui arso come alchimista a Siena, ed alteravo i metalli tramite la scienza dell'alchimia. Dovresti anche ricordare, se ben ti riconosco, come io fui molto bravo e pieno di vocazione e talento per copiare, contraffare, alterare i metalli, le cose e gli uomini, e come fui così? Buona scimmia!